Siamo prepotenti, maleducati, aggressivi, viziati, pieni di giocattoli. Vogliamo restare, tornare, tiranni, bambini capricciosi, come un tempo. Le femminucce giocavano con le bambole, i maschietti con le auto e i soldatini. Vogliamo fare i cretini, è ciò che ci piace. Non possiamo accettare le frustrazioni, né le negazioni che ci vengono imposte. Occupare il centro dell'attenzione, la nostra sola ed unica vocazione. Abbiamo ciò che serve, lo vogliamo. Fare proprio quel che ci va. Esigiamo il rispetto della spontaneità. Alla disubbidienza, pazienza, ad oltranza. Non facciamo caso all'età, alle responsabilità. Chiediamo asilo montessoriano alla casa del bambino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.